Quella che ha appena cominciata potrebbe essere la settimana della chiusura di qualche trattativa per quanto riguarda il calciomercato. Ufficialmente i trasferimenti aprono i battenti il primo luglio, ma i direttori sportivi stanno già lavorando per allestire le squadre della prossima stagione. Lavoro in corso in casa Bari soprattutto per quanto riguarda l'attacco, ma a quanto pare il nome over arriverà solo negli ultimi giorni. Per quanto riguarda gli under invece si lavora soprattutto sulle fasce, come di Dorval, che è praticamente cosa fatta. L'intenzione di Polito è restare con Ricci e Puccino e affiancargli due giovani. Se per l'ex Cerignola è praticamente cosa fatta, l'altro nome che circola è quello di Zanoli, classe 2001, di proprietà del Napoli. Il Sassuolo avrebbe proposto a Giappong, ma il suo status di over, essendo il calciatore nato nel 1998, pare non interessare il Bari. Per quanto riguarda le partenze invece ci sarebbe una richiesta del Foggia per Francesco Belli. L'esterno di destra, Exentelle e Pisa, potrebbe arrivare alla corte di Boscaglia, che lo ha avuto con sé proprio in Liguria. Nessuna richiesta ufficiale invece per Mazzotta, ma la sua esperienza rappresenterebbe una garanzia per qualsiasi club che punti a vincere la Serie C.